Ciao a tutti e benvenuti nel canale. Io sono Laura, ormai mi avete imparato a conoscermi. Oggi vi voglio presentare delle girelle al prosciutto. Sono ottime per un aperitivo, per i vostri bimbi, sono da provare, facili e veloci da fare. Vi lascio alla ricetta. Ciao! 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 Eccone qua! Ragazzi, sono buonissime! Ottime! Piaceranno anche i bambini. Buone, 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 buone! Se vi è piaciuta la ricetta, un like, spolliciate, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e ciao! Ciao alla prossima! Ciao ciao!